Bellassi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 e siamo qui per parlare della Nazionale ragazzi scusatevi se non mi portate i video ieri ma non avevo la videocamera oggi finalmente ce l'ho e 4k e dunque finalmente posso portare i video anche perchè ieri ho parlato di Formula 1 e MotoGP e non mi sembrava il caso di fare 3 video in un giorno quindi insomma oggi ho parlato della Nazionale e volevate magari sapere il mio parere perchè alla fine l'ho azzeccata ragazzi più o meno io ho detto 2 a 0 e finita 2 a 1 avevo detto che forse avremmo avuto la capacità di soffrire nei momenti decisivi e infatti abbiamo sofferto avevo detto gol di Chiesa, segnato Chiesa in più avevo detto che in un altro video che il Belgio per me avrebbe vinto l'Europeo e con grande, cioè non dico sorprese di tutti però se andavate che ne so sul sito di TransferMarket che mette il sondaggio che vince secondo voi tra Belgio e Portogallo il 40% votato a Belgio e 60% a Portogallo quindi insomma tra le due forse si vedeva più avanti il Portogallo quando io ho detto ragazzi il Portogallo poi verrà sbrutato fuori perchè l'Europeo 2016 il Portogallo ha fatto quanti pareggi? ha fatto 6 pareggi in 7 partite i regolamentari ne hanno vinta solo 1 il resto, i regolamentari sono tutti pareggi in una classifica normale sarebbero stati praticamente quanti? 8 punti in 6 partite una miseria cioè praticamente se tu vai a fare una classifica di Serie A 8 punti in 6 partite hai una media da salvezza non più di una metà classifica per farvi capire 8 punti in 6 partite sarebbero 6 per 6, 36 8 per 6, 48 punti in un anno in una classifica di Serie A che sono buoni perchè ti salvi è una squadra della metà classifica ma non da primo avete capito che differenza c'è tra primo e decimo posto ragazzi in questo europeo il Portogallo contro Germania e Francia non ha vinto contro la Germania ha perso contro la Francia ha pareggiato con 2 rigori sui 5 gol fatti ne hanno fatti 2 a porta vuota e 3 su rigore quindi capite cosa mi mi muoveva scetticismo questo Portogallo che non giocava bene a calcio non creava tante azioni offensive senza un ma raga con l'Ungheria ha anche avuto un pizzico di culo con il gol deviato quindi secondo me il Portogallo era solamente il destino che uscisse e questo tra tutte le uscenti potrebbe essere l'anno del Belgio vedo bene anche Francia Inghilterra Germania e la stessa Italia ma forse è più l'anno del Belgio per carità spero di no perchè il Belgio lo incontreremo noi e quindi magari spero di avere torto ragazzi però io dico quel che sento poi è chiaro che se vince l'Italia sono il primo a scendere in strada e a urlare perchè secondo me io la vedo come un 80% Belgio è un 20% taglia ragazzi se non c'è De Bruyne se non c'è De Bruyne però è un 50 e 50 perchè se non c'è De Bruyne il Belgio è stato europeo per me non lo vince è l'individualità migliore di tutte De Bruyne per me perchè quando manca lui il Sidi va in tilt abbiamo notato sempre questo nell'arco degli anni De Bruyne è un calciatore di una qualità mentale e anche tecnico-tattica straordinaria ragazzi per me da pallone d'olio è un giocatore che veramente io adoro la sofferenza l'abbiamo sabuta reggere ma comunque con un pizzico di culo perchè la traversa il gol annullato eccetera e e comunque con l'Austria io voglio vedere una sofferenza con una squadra tecnicamente più forte appunto il Belgio quindi sono curioso di vedere questa partita come reggerà l'urto la squadra e i dubbi saranno sempre quelli Verratti-Locatelli e Berardi-Chiesa io avevo detto che mettere dall'inizio Locatelli e Chiesa insieme oppure Verratti-Berardi non sarebbe stato dall'inizio quindi non la partita in corso non sarebbe stata una buona cosa o metti Verratti-Locatelli o metti Verratti-Chiesa e quello ha messo uno e l'altro infatti la squadra ha avuto un'organizzazione non perfetta in avanti andavamo poco spesso al tiro l'occasione è maggiore l'ha creata immobile ma con un tiro comunque casuale da fuori aria ecco quindi insomma e tra l'altro così è anche come assegnato contro il contro la Svizzera quindi insomma bisogna cercare più continuità questa nazionale ragazzi è una maggiore continuità di rendimento perché a volte andiamo un po' nel panico appunto dicevo metti Locatelli e Berardi insieme che si intendono alla perfezione perché sennò Berardi lo vediamo un po' spaesato si sembra strano ovviamente se non ci fosse stato Locatelli a questo europeo non è che Berardi non va messo perché non hai Locatelli però già che ce l'hai li metti insieme perché Berardi poi si deve abituare a giocare senza Locatelli ha fatto 4 gol in 4 partite e secondo la titolarità poi all'europeo ha viziato ha fatto il gol il primo gol che abbiamo fatto con l'autogol di De Miral con la Turchia ha fatto un bella assist una bella giocata per l'assist con il gol che ha aperto le marcature contro la Svizzera di Locatelli quindi insomma ha fatto delle belle partite questa diciamo che è stata una nota stonata sicuramente sarà un'insufficienza in Pagella sono le Pagella che arriveranno oggi quindi insomma forse bisogna anche migliorare secondo me l'organizzazione difensiva e sto cazzo d'attaccante perché non abbiamo un attaccante che la butta dentro Belotti è bravissimo nelle sponde è bravissimo nel guadagnare tempo di gioco però ragazzi quel 3 a 1 me lo devi mettere quel 3 a 0 mi sa che hanno ancora segnato l'Austria devi metterlo dentro con Chiesa cioè io non bisognava vincere con sto cazzo d'attaccante e sto cazzo d'attaccante non arriva perché sono discontinui Immobile e Belotti quello è il problema credo quindi che vincere il Belgio ma spero ovviamente di noi dipende se c'è De Bruyne o meno se c'è De Bruyne è un 80-20 per il Belgio se non c'è De Bruyne per me è un 50-50 detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto rimedialci a un mi piace caso di contare un dislike commento se siete d'accordo o disaccordo con me se non è ancora fatto iscriviti al canale in descrizione il link per i secondi Instagram da Monospor07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi